Allora, apriamo innanzitutto Argus Lab, poi, questo qui è la nostra schermata, da file scegliamo New, ci appare subito una schermata e la prima cosa che ci mette è l'atomo di idrogeno, ma noi dobbiamo fare una molecola, vogliamo fare una molecola di idrogeno, quindi andiamo su Periodic Table, scegliamo H, ci apparirà numero 1, simbolo H, idrogeno e scegliamo che. A questo punto l'atomo che stiamo inserendo è l'atomo di idrogeno. Facciamo clic sullo schermo col tasto destro e ci inserirà l'atomo di idrogeno. Poi andiamo a prendere il segno di legame chimico, vedete abbiamo ancora un atomo di idrogeno, cerchiamo di avvicinarlo abbastanza, scegliamo uno che va più che bene per l'atomo di idrogeno, facciamo clic col tasto destro e vediamo che abbiamo fatto la nostra molecola di idrogeno. A questo punto andiamo sulla freccia gialla e schiacciando sulla freccia gialla ci dice che possiamo smettere qui. La nostra molecola di idrogeno è fatta, però non abbiamo ancora ottenuto la lunghezza desiderata. Per ottenere la lunghezza desiderata basta andare su Calculation e scegliere Optimize Geometry, scegliamo UFF, diamo l'ok, ci dirà di salvare la nostra molecola di idrogeno, noi la salveremo come molecola di idrogeno, siccome io ce l'ho già salvata come molecola di idrogeno nella raccolta di molecole documenti, la salverò con molecola di idrogeno 1. Soliti errori di ortografia, bene, la salviamo. A questo punto vedete come la molecola si è modificata. Perché si è modificata? Si è modificata perché il programma ha messo la lunghezza reale del legame idrogeno. Questa lunghezza la posso andare a fare scegliendo CTRL e schiacciando col tasto destro del mouse su ciascuna delle due molecole. Non me lo fa? Eccolo qui. A volte il programma è un po' lento, queste cose. Vedete che nella barra in alto si sono illuminati due palline col punto interrogativo. Se lo schiaccio mi dice quant'è la lunghezza di legame. Vedete? È uscito un numero, questo numero mi dice qual'è la lunghezza di legame. Sposto l'atomo in modo tale che la lunghezza di legame si veda meglio. Vado sulla freccetta col cerchio intorno, lo sposto, cerco di metterlo in modo tale che si veda la lunghezza di legame. Ecco, adesso la lunghezza di legame si vede benissimo. Noi non interessano questi particolari ben precisi, questi vi serviranno a chi lavora più all'università, ma noi sappiamo che questo ci garantisce che la nostra molecola di idrogeno è ben proporzionata in base alla lunghezza tipica del legame che ci sono fra due atomi di idrogeno. Ripeto, stiamo qui per giocare, questi discorsi sono un po' troppo complicati, ma tanto per far vedere che ci sono. Se io vado a scegliere l'Abel e scelgo tutti gli atomi, mi dà i nomi di questi atomi. Vedete? Metterà l'atomo idrogeno 1 e l'atomo idrogeno 2. Se voglio vedere questa molecola in una maniera ancora migliore di come l'ho mostrata, si può anche andare su una simbologia, su un metodo di calcolo più accentuato, migliore. Un metodo di calcolo migliore è questo, optimizzo i geometri, scelgo AM1, faccio l'ok, vedete come mi abbia ridotto il legame, ma in questo modo ho fatto quello che c'era da fare sulla molecola idrogeno. A questo punto posso salvare la mia molecola così normalizzata, sceglierò file, salva con nome, a questo punto sceglio molecola di idrogeno 1, normalizzata. ecco qui, la salvo e ho la mia molecola di idrogeno che la possiamo vedere qui, che è perfettamente proporzionata a quelle che sono le sue reali dimensioni. Poi si possono fare diverse altre cose, si può centrarla, se ritrovo con questo qui, questo mette la molecola al centro e oppure posso spostarla utilizzando in questa maniera. Vedi, con questo tasto, la freccia col Z posso ingrandire la mia molecola, con questa freccia posso spostarla, vedete, oppure posso, senza spostarla in direzione, e metterla da un'altra parte. Tutto ciò, questo è quanto bisognava fare.